su Crashing Racing chiamata c'è una serie su Crashing Racing è la stupetta di Crashing Racing allora io adesso sono qua dovrei fare cose dovrei fare cose io ho credo di aver bloccato delle gare tipo questa posso? io ci provo eh no non me la fa fare perché per correre su questa pista raccogli il numero prestabilito di reliquie ok e quindi e dunque la schermata di caricamento e salvataggio ve ne sono in tutto 5 una in ogni parte del mondo quando vuoi caricare o salvare una partita dovrai arrivare per accedervi guida fino alla schermata e segui le indicazioni ok e dunque no perché no io voglio fare gare le gare che avrei sbloccato voglio fare qua cosa devo fare ti servono le quattro chiavi dei boss per questa porta e quattro chiavi del boss va bene e le quattro chiavi dove le troverei di grazia ste quattro qua non ci può andare allora di qua ora provo un attimo mi sto un attimo perdendo di qua giusto qua ci sono gare che può eh si 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 qua ci sono gare qua ci sono gare ci sono gare ci sono gare no poi stavo so farla parco poco avanti quelle già le penso sia le gare che ho già fatto che ho già vinto se non mi sbaglio dovrebbe essere le gare che ho già vinto credo però vabbè vediamo insomma ci ragioneremo insomma in qualche maniera vediamo cosa riuscire a fare mi chiedo scusa che mi sono perso i primi tre minuti quasi di registrazione sono perso a capire che gare dovevo fare poi qualcuno magari mi aiuterà in merito qualche maniera a farmi capire insomma come devo avanzare cosa devo fare che gare devo fare vincere non lo so forse però che ci penso mi sa che dovrò tornare qua c'è sto parco poco allora io premo per saltarsi sì premiamo per saltare vai 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 io io no sbagliato ok poi vedo questo iiii are the champion my friend io prendo questo poi qua ok iiii vado di burdega 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 noo bella iiii lo bagliato non il burdega non va al burdega l'ho faccia così e la 1, 2, 3 Vai Ultimo giro Solo primo Perché c'è un fantasmino Che è partito Vabbè, fa un bagno Facciamo che è così Miel Affan Grosmi Vai Spitta Ah, troppo Primo tentativo è andato male Vince pura Io che ho fatto? Ci ho sbloccato Delle robe Nautilus E ho sbloccato quella cosa Ma non mi Serve a molto, diciamo Va, riprova Dai, riproviamo Vediamo un po' Riproviamo, riproviamo, riproviamo Chi si salta? Andiamo Giù Eh Giù Eh, sì Sì, sono partiti meglio loro Allora Eh Come stanno preso loro? Burtega 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 Ma no Ma non l'avevo Questa Quella trota Perché E che E Niente Non Non sono andato Per Porca Di Di A Questa Scanna Non tra di loro Però no Benissimo Per carina Però Uno Due Tre Qui Poi Spacca Tutte Due E ora Tranghe E Uno Due Tre Due Es Ecco Burtega 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 Qua Burtega Uno Due Tre Die E Mi sa Perché poi sono lento Vigione Senza Burtega E Tera parte Sono lento Uno Due Tre Via Tut 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 Papara Papara E Ce l'ho fatta Stavolta Non ci ho perso Neanche tanto tempo Stavolta C'è Questo è il secondo tentativo Sono riuscito a vincere Stavolta Stavolta Va bene Ottimo Ora Benissimo Continua Io Direi che Poi ora Potrò Tornare Alla Mappa Decitamente Sì Continua E Torniamo La Mappa Abbiamo Vinto Stagara Penso Se Ne Sblocchino Altre Possibile O Devo Tornare Indietro Oppure Dopo Dove Tornare Indietro Non Lo So Chi Lo Vedremo Un po La Situazione Ecco Poi Vi servirà L'aiuto Vostro Qualcuno Di voi Per Prendere Le Rob Perché Per capire Come andare Avanti Perché Se Per andare Avanti Devo Rifare Le gare E Invece Di vincere Devo Prendere Gli amulettini Le mincate Le mincatelle Le cose Vale Insomma Capite Che Questa Serie Potrebbe Durare Potrebbe Finire Prima Del Previsto Perché Quel cane Ci Non Stai E Vabbè Vani Con Vinta Questa Ok 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 L'ho già Mi è stato Spiegato Però Hai sbloccato Un nuovo adesivo Coco Vada al gioco Dio Ah Spiegato 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 Che qua No No Va bene Anche di qua Anche di qua Vabbè Tanto Quella Tegare Come le fa fare Quindi Di qua E ora Questo E Tempio Tiger Amuntashi Tiger Me Scusate Ogni tanto Dove capire So registrano Questa puntata Forse anche Le prossime Dopo di questa Di sera Dopo una giornata Di lavoro Stancante Ston Ston A pezzo Sto mentalmente Sto perso Sto mentalmente Perso Ma proprio Ma perso Che non potete capire Quanto sto perso Quindi insomma Abbiate pazienza Abbiate E pietà Di me Vediamo Cosa 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 Non lo so Cosa Allora Tempio Tiger E Corsa Trofeo Va bene Ok Allora Devo vincere Devo vincere Sto Devo vincere Sto 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 Via E Le Le Uno Due Tre E Sua Tua Tua mamma Tua mamma Alla 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 Mi ricordo Queste Nelcune gare Che ho fatto Con Minda Baffan Grosni E Che Cazzo Ma Porca Miseria Non la prendo No No Qua sto Sbagliando Tipo Tutto Sto Sbagliando Qualsiasi Cosa Possibile Dammi Una cosa Che mi Ti fa Recuperare Tanto Turbo Perché C'è Un Fantasmino Fantasmino Blu Cosa Serve Uno Due Tre Iii Ma La tua Mamma Va bene E allora Cominciamo A sparare E Baffan Magno E Porca Miseria Via Burdega Mi fatti Burdega Oh Burdega Uno Due E Baffan Magno A me Non ho più le Dice Un Un Blu Mi firo Bum Io Non vincerò mai È abbastanza evidente Questa cosa che non vincerò mai È abbastanza evidente Siamo Siamo Ultimo giro Sono quinto Diciamo che Mi servirà a capire Uno Due Nooo Porca Di bella La La e questa gara, non posso fare niente, mi hanno interrogato anche il podio, ottimo, 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 una gara locale, categoria bronzo, riprova, riproviamo, ci riproviamo, ci riproviamo, avanti, Tempio Tiger, stacchiamo, mi sbaglio, e lì lì, uno, due, e vaffan, grossi, ok, uno, due, tre, tessere, iiii, dai, forse, oh, una cosa, iiii, ahhh, ah, iiii, uno, due, tre, iiii, ahhh, perché ogni tanto parte un fantasmino a caso e a caso c'è un motivo per cui parte se qualcuno segue e ha intenzione di rispondermi lo ritiraceremo interi no 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 porca mia è che forse migliore forse migliore no è la tua mamma e ora vi ci penso io a volte 1, 2, 3 3 3 4 4 5 8 10 13 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 16 16 17 18 18 19 19 20 20 20 20 20 21 21 21 22 22 23 23 24 23 23 24 25 25 25 25 26 26 26 26 26 27 26 26 28 29 29 29 30 29 proprio all'ultimo proprio all'ultimo che cosa ho bloccato vabbè adesivi ombra malvada di crash vabbè facciamo una cosa alla prossima